Salve a tutti amici, bentornati su Pausa Caffè. Partiamo subito con la news, ma potrete lasciare un bel like qui sotto per aiutare semplicemente il canale. Potrete commentare tutte le notizie qui sotto, proprio nella sezione commenti. Ballando con le stelle 2023 è stato conquistato da Vandanara e ora sono uscite fuori delle dichiarazioni bomba di Simone Izzo, la quale ha spiegato perché ha vinto la showgirl. Non parliamo di complimenti, ma di una sorta di attacco da parte della moglie di Ricky Tognazzi. Che ha costretto tra l'altro il conduttore della vita indiretta, Alberto Matano, ad intervenire sulla questione. Dopo la finale di Ballando con le stelle, che ha visto prevalere appunto Vandanara, Simone Izzo ha accettato di essere ospite di Matano nel pomeriggio del 27 dicembre e ha detto perché ha vinto la coniuge di Mauro Icardi e non qualcun altro. Poi il padrone di casa ha immediatamente preso la parola per evitare che la situazione potesse sfuggire di mano. Un'affermazione inaspettata quella giunta a pochi giorni dalla finalissima di Ballando con le stelle. Vandanara si sta ancora godendo il successo, ma Simone Izzo non è stata a quanto pare una delle sue fan. Lei ha una sua idea sul perché ha vinto la sudamericana e non un altro concorrente e lo stesso Alberto Matano non se l'aspettava di ascoltare un simile discorso. L'attrice Izzo ha quindi esclamato in diretta tv, Vandanara? Secondo me è una furba, io ve lo dico. Si può dire? Ah no, lei è intoccabile. Quindi, uscita a dir poco polemica dell'ospite della vita in diretta. A quel punto Matano, accortosi dell'imbarazzo generato dalle dichiarazioni della donna sulla vincitrice di Ballando, ha voluto cambiare argomento parlando di altri particolari della trasmissione di Mili Carlucci per evitare di infiammare lo studio. Nessuna replica per ora da parte di Vandanara, che non sappiamo se avrà voglia o meno di ribattere a Simone Izzo, la quale avrebbe voluto vedere trionfare una persona diversa dall'Argentina.